Musica Incidente questa mattina, venerdì 4 maggio, poco prima delle 12.30, in via Fiano a Robassomero. Una donna ai 79 anni di Robassomero ha perso il controllo della Citroen C3 che stava guidando ed è uscita di strada terminando la soccorsa ribaltata su un fianco sul prato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118, gli agenti di polizia locale di Robassomero e i vigili del fuoco di Nole per la messa in sicurezza della vettura. Fortunatamente la donna è rimasta ferita in modo lieve ed è stata accompagnata all'ospedale di Ciriè. Fortunatamente la donna è rimasta ferita in modo lieve ed è uscita. Fortunatamente la donna è rimasta ferita in modo lieve ed è uscita.